Com'era e dov'era? Si fa presto a dirlo, ma poi bisogna vedere com'era e dov'era se prima dell'incendio o prima di tanti interventi anche sbrigativi che sono stati fatti. L'incarico di coordinare tutto il lavoro è stato affidato a Mauro Carosi che ha fatto un lavoro magnifico perché si è documentato in modo perfetto e ha saputo mettere insieme tutti gli artigiani che stanno attualmente lavorando. Devo spendere una parola per questi artigiani che si stanno rivelando straordinari perché io ho visto, ho visitato i vari atelier e devo dire che il lavoro che stanno facendo è di grandissima qualità e di un livello eccezionale.